Le nuove graduatorie per le assegnazioni di appartamenti ATER saranno pronte nei primi dieci giorni di maggio. Lo ha spiegato stamani a Sveglia Trieste il direttore generale dell'agenzia Antonio Ius. Si sarebbe dovuto concludere ieri il percorso con la commissione accertamento requisiti soggettivi che è quello che ha avaliato tutte le domande e che adesso deve avaliare i cosiddetti ricorsi in opposizione rispetto a quanto alla graduatoria pubblica, provvisorie pubblicate 45 giorni fa. Ieri purtroppo è saltata la seduta per una sopravvenuta indisponibilità di un commissario ma io credo che nel giro di una settimana andremo a recuperare questa seduta di commissione di modo che, presumo, entro la prima decada di maggio verranno pubblicate per tutti e sei i comuni dell'area di competenza dell'ATER di Trieste le singole graduatorie definitive. Ius ha poi confermato i dati diffusi recentemente nel corso della campagna elettorale da diversi esponenti politici relativi al calo di domande di alloggi ATER in modo particolare da parte degli italiani. Tra le graduatorie della primavera 2013 e le graduatorie provvisorie primavera 2017 il numero complessivo delle domande è calato di circa il 13%. Il dato secondo me significativo è che nel calo generalizzato della domanda quella che è calata molto è la domanda di cittadini italiani e noi registriamo una diminuzione di domanda pari al 26% di cittadini italiani.